Sicuramente non può finire così. Non ha dubbi il sindaco di Cittadella, Luca Piero Bon, che lancia l'idea di una raccolta firme per far scarcerare Massimo Zen, condannato a nove anni di carcere per omicidio volontario. La guardia giurata di 52 anni, residente nella città Murata, il 22 aprile del 2017, sparò e uccise il giostraio Manuel Major, che stava fuggendo dopo aver compiuto quattro colpi ad altrettanti Bancomat. Major e i suoi complici avevano messo a segno diversi assalti, tra Trevigiano, Bassanese e Alta Padovana. Quella notte Zen lavorava a Vedelago, era in contatto con i carabinieri perché era emersa la notizia della fuga dei malviventi. Aveva intercettato il veicolo, aveva messo la sua auto di traverso per bloccarli, poi il fuoco, la morte del bandito e adesso la condanna di Zen. Piero Bon non intende farsi da parte. Sono finiti i tempi delle chiacchiere, i tempi di star fermi ad ascoltare. Bisogna cercare di trovare una soluzione, da una mano a Massimo. Quindi cercheremo di muoverci in tutti i modi possibili, non tanto per creare il caso a livello sociale, perché comunque la popolazione sa già cosa sta accadendo e quindi è tutta disposta ad aiutare Massimo. Se raccogliessimo oggi delle firme in tutta Italia probabilmente raccoglieremo milioni di firme a sostegno di Massimo. Oggi però bisogna sentire le istituzioni, sentire il governo, capire cosa si riesce a fare per far sì che Massimo non stia in carcere tanto. Massimo è una brava persona, Massimo è un lavoratore, Massimo è una persona che stava facendo il suo lavoro per mantenere la propria famiglia, non è un delinquente e quindi come tale non può stare in carcere. Ci sono 50.000 sistemi dei servizi sociali a qualsiasi altra cosa per cercare di far sì che una persona scontri una pena in una maniera alternativa. Quindi ecco noi ci muoveremo nel pieno rispetto delle legalità per aiutare Massimo.